Ok, Stefania. Quindi è sempre molto interessante il corso in vivo, insomma, ed è stato anche così qualcosa di inaspettato in un certo senso, ecco, quindi c'è una doppia soddisfazione, primo perché ho imparato e secondo perché non l'aspettavo, quindi è un po' questa sorpresina, mi piace, ecco. E poi valgo l'occasione per salutare te e salutare tutti gli altri, sono stati tutti molto simpatici e preparati e quindi ho imparato anche da tutte le domande che sono state fatte, insomma. Niente, lascio la parola a qualcun altro, allora. Grazie, grazie a te Stefania, perché comunque ci siamo, si studentessa forse nel 2017, vado a occhio più o meno.